Le borse europee chiudono poco mosse l'ultima seduta della settimana, a eccezione di Milano che, complice la correzione di Juncker sulla stabilità politica in Italia, recupera la flessione. Milano guadagna lo 0,93%, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 141 punti. In territorio positivo Francoforte, più 0,18% e Parigi, più 0,15%. In flessione Londra, meno 0,11%. A piazza affari ben comprati i bancari, le utility e i petroliferi, con Saipem che guida il comparto con un rialzo del 3,86%. Fra le banche Svetta Biper, più 3,8%, seguito da Banco BPM e UbiBanca, con rialzi di oltre due punti, ben comprata Team, più 2,15% nel giorno del CDA. Medaglia nera per Buzzi Unicem, che cede l'1,93%, in rosso anche Ferragamo FCA.